il 18 di agosto il 18 di agosto la gran rifa per la restaurazione della Basilica Maria Auxiliadora solamente 5 soles come non va a tenere 5 soles a mano? hai che collaborare guarda tutti i premios che hai camera filmadora artefatti elettrico televisore lavadoras queste 18 di agosto no dejen de ir perché queste sono gente humana gente che vuole collaborare con la restaurazione della Basilica Maria Auxiliadora così che le dico a tutti non compren